C'è Enrico, puoi fare una pizza dedicata a Roma, voglio questo messaggio mi dà l'input per ricordarvi che abbiamo una magnifica sede in via Tuscolana 638 a Roma e quindi è certo che la faccio. Andiamo a stender disco di pasta, sottile con un po' di cornicione, a crema di stracciata di bufala, e il guanciale nostro, ambedi che colore, la provano da Gerola, un filo d'olio extravegine, hop là, nel forno, a cottura lenta, docile e mai aggressiva, sta pizza è pronta e va sfonnata, sì, ma va anche completata, a crema di ovo pastorizzato, un pizzico di pepe, le cipripecorino romano, il basilico a crudo, ali mortaggi tua, ambedi quanto è bella, ambedi che spettacolo, semplice ed efficace, replicate ma non imitate, perché pure questa si deve sapere fare.